Voi dovete stare attenti, voi dovete stare attenti, proprio voi, voi che giocate con la mia vita, con la mia vita, voi state giocando con la mia vita, Sancho Juventus a pronunciare queste due parole comporta un rischio enorme per la mia salute, già è compromessa di suo, se poi vi mettete anche voi, vi ci mettete anche voi, stiamo attenti. E allora, buongiorno a te e a tutti voi che state guardando questo video, buongiorno, come state? Primo video di giornata così, con la bomba, Sancho possibile obiettivo e concreto della Juventus. Ma prima, poi affronteremo anche appunto altri temi della giornata di oggi, notizie che in realtà non sono notizie perché è sempre la stessa cosa, purtroppo si ripetono sempre le stesse cose. Ma prima di parlarne, mi raccomando, ditemi la vostra, commentate, commentate più non posso, voglio sapere la vostra, voglio sapere la vostra su Sancho alla Juventus e di tutti i temi che andremo a toccare in questo video. Sono curioso, sono veramente curioso di sapere perché qua secondo me c'è della roba da... Inoltre, vi ricordo, lasciate un like se vi piace il video, un dislike se vi sto sui coglioni e poi l'iscrizione se vi fa piacere e attivate la campanella per non perdere i contenuti. Partiamo? Partiamo a bomba? Qua io sono carico ragazzi, io ve lo dico, io qua sono carico, io pa pa pa, sono proprio una miccia, è mezzanotte e mezza e mi sto a carico come una miccia. Occhio, occhio. Partiamo da Nico González. Enesima volta, notizia che non è notizia. Notizia che non è notizia. Tutti i giorni, anche oggi, Nico González arriva domani. Mannaggia a voi, eh. La Fiorentina non ha ancora accettato l'offerta della Juventus. La Juventus ha sempre la stessa proposta. Le parti dovrebbero aggiornarsi nella giornata di domani. Ci saranno nuovi contatti per provare a chiudere questa trattativa. Perché il giocatore è chiaro, è palese che vuole andare via. Cioè, raga, non prendiamoci in giro. Vuole andare via, vuole andare via. Sullo storno della Fiorentina non c'è nemmeno più la maglia. 10 Nico, quindi presumo che più fuori dal progetto di così, poco ci vuole. O no. Quindi vedremo cosa succederà nel prossimo euro. Io spero che questa situazione si possa sbloccare il prima possibile. Perché la Juventus serve un esterno, la Juventus serve un esterno. Servono. E ha bisogno come il pane, perché a Chiesa è sempre più vicino invece al Barcellona. Ma ne parleremo poi. E questo è. È una serie di domino che si vanno a ripetere. Oddio, tanto casca tutta la sedia. È una sorta di domino che va a proprio... Una serie di situazioni che creano appunto un domino che poi porterà determinate conseguenze. Ad esempio, la partenza di Chiesa, che sembra sempre più vicino al Barcellona, potrebbe portare Nico González a Juventus. È l'unico colpo d'entrata che mi aspetto? No. Assolutamente no. Ed è qui, ed è qui, ed è qui, ed è qui, ragazzi miei, che arriva il punto. Jadon, Sancho alla Juventus. Fermi. Allora, dovete sapere che il Jadon, Sancho, lo amo dai tempi del Borussia Dortmund. Mi sono proprio innamorato. Innamorato. Era uno degli esterni più forti al mondo, ed è ancora uno degli esterni più forti al mondo. È classe 2000, ha la mia età, quindi vuoi a voi dargli del vecchio, perché vi vengo a cercare uno a uno. È un giocatore giovanissimo. È un giocatore forte. È un giocatore tecnico. È un giocatore che, secondo me, è di una spanna superiore a Federico Chiesa. In più, perché Sancho sarebbe perfetto. Perché Sancho è anche adatto al gioco di Tiago Motta. È un giocatore che si sacrifica anche in fase di non possesso. È un giocatore, per come la vedo io, eh, attenzione. Poi sono aperto tutti i vostri commenti, quindi lasciate, mi raccomando. È un giocatore che, secondo me, se dovesse andare a prenderlo, andreste a fare anche un upgrade rispetto a quello che è Federico Chiesa. Ci siamo capiti? È un giocatore più tecnico. Un giocatore che non ti lascia punti di riferimento. Non ti dà punti di riferimento. Non è come Chiesa che gioca tutto di strappo, di potenza, di voglia. No, Sancho è magia, estro, è un esterno vecchio stampo, un esterno proprio di quelli magici, è proprio bello da vedere quando gioca. E qua arriva il punto, perché sì, fra, tutto bello, tutto bello, maschera, cioè tutto bello, bellissimo, ma come cazzo lo prendi che c'ha piglia 12-13 milioni all'anno? Vero, e qua avete ragione. Però io penso e credo che Sancho sappia che o va in un'altra squadra che gli garantisce lo stipendio così alto, quindi presumo, presuppongo Arabia Saudita, perché non credo ci sia un'altra squadra che possa garantirgli quello stipendio, oppure deciderà di abbassarselo. Perché non vedo alternative, o rimane là al Manchester a fare la muffa, a girare i pollici con Tenaghi in panchino, oppure decide di rimettersi in carreggiata come si deve andare in un club che gli possa permettere di rinascere e di poter tornare a quel giocatore che era al Borussia Dortmund, che abbiamo visto prima che andasse a rovinarsi dove si rovinano tutti, io sono al Manchester United. Io ci spero, quindi io credo che Sancho, spero sia intelligente da capire che adesso non sono i soldi il problema. Il problema è tornare sulla dritta via. Quello è l'importante per Gedeon Sancho. E alla Juventus credo che potrebbe farlo, tranquillamente, perché Tiago Motta lo apprezza. I tifosi lo amano. Io, vivendo molto sui social, vivendo nei social, percepisco, quando si parla di Sancho alla Juventus, il tifoso juventino trema, trema. Cioè è lì che, ragazzi, ragazzi, non scherziamo su Gedeon Sancho, perché Gedeon Sancho è un sì, in tutti i modi. Poi davvero, ribadisco, tu andresti a creare con Sancho? Ipotizziamo. Tu riusciresti a prendere, se tu dovessi riuscire a prendere, sia Copp Maners, che anche lì è una crociata, è uno di sé, è un parto, è un travaglio, più Nico González e Sancho, tu andresti a creare un pacchetto offensivo con i controcazzi. Ma con i controcazzi veramente. Esterno-destra avresti UEA Sancho. Esterno-sinistra. Esterno-sinistro. Ildiz e Nico González. No, cazzata. Oddio, ne ho dette una delle mie. No, scusate, facciamo che non ragioniamo per ruoli. Allora, avresti. Io ragiono così. Ildiz, Sancho, Copp Maners sulla tre quarti e Vlaugli. Ripetiamo insieme. Ripetiamo. Ripetita a Juvent, dicevano. Sancho sulla destra. Sinistra Ildiz. Copp Maners in mezzo. E Dusan Vlaugli c'è da davanti. Senza poi contare tutto il reparto dietro, che c'è Douglas Ruiz, c'è Fagioli, c'è un botto di soluzioni. C'è, regà, a regà, ma di che stiamo a parlare? Io credo e spero veramente che la Juventus riesca ad arrivare a Sancho, anche se secondo me sarà una questione molto lunga. Non di giorni brevi, cheat, domani, firma, magari. Però, ragazzi miei, credo che sia un... Ne parlavo anche oggi con dei ragazzi, Toselli, Colpo Gobbo e Ikinoshi, che secondo noi sarà una cosa che andrà molto per le lunghe, perché bisogna far bollire un po' la rabbia. Bisogna cercare di giocare su quella rabbia che sta coltivando Sancho per essere continuamente messo fuori rosa. Bisogna cercare di arrivare allo strappo definitivo con l'United in modo tale che non sia più riparabile di là e tu te lo pegli. Anche perché Romano ha detto che il PSG non è sul giocatore. Godo. Quindi, ragazzi miei, Gedeon Sancho. Gedeon Sancho. Gedeon fucking Sancho. God save Macario. Non God save the King. God save... Macario. Questo è, ragazzi. Io vi aspetto nei commenti. Vi leggo, proverò a rispondere a tutti, anzi, sicuramente risponderò a tutti. Like se vi è piaciuto il video, dislike se vi sto sui coglioni, iscrizione e commento. Sancho, alla Juventus. God save our gracious Macario. Ecco, ecco. Una cheat. Ciao, ragazzi.